Poiché l'attuazione di un programma operativo dipende in modo significativo anche dal funzionamento di uffici diversi, da quelli che si occupano direttamente della gestione dei fondi comunitari, per ridurre significativamente i tempi delle procedure di un programma operativo e renderle compatibili con le regole comunitarie e con l'efficacia richiesta dalle politiche di sviluppo, occorre rendere più efficiente l'organizzazione dell'intera macchina amministrativa. Il miglioramento della capacità istituzionale è considerato come un'assoluta priorità dal Programma Nazionale di Riforma, in linea con le raccomandazioni specifiche del Consiglio europeo e dal Position Paper sulla programmazione comunitaria 14-20. Nel Position Paper Italia la Commissione europea ha richiesto una diretta azione di rafforzamento amministrativo, sia in relazione alle esigenze più immediate di rafforzamento della gestione dei fonti UE, sia più in generale alla complessiva capacità amministrativa alla quale appunto è dedicato uno degli obiettivi tematici. Nell'accordo di partenariato la capacità istituzionale è uno appunto degli obiettivi tematici l'undicesimo. La strategia dell'obiettivo tematico 11 si articola in due pilastri che ne delineano gli obiettivi e la successiva articolazione in risultati attesi e azioni per conseguirli. Il primo pilastro dedicato alla complessiva modernizzazione del sistema amministrativo. Il secondo pilastro al rafforzamento della capacità delle amministrazioni e delle parti interessate coinvolte specificatamente nelle politiche di questione. Le linee guida per la definizione dei piani di rafforzamento amministrativo, i PRA, individuano tre ambiti di intervento, tra di essi anche il rafforzamento delle cosiddette funzioni trasversali, ma anche le semplificazioni legislative e procedurali, nonché l'adeguamento delle competenze interne, chiamano in causa la responsabilità di vari uffici dell'amministrazione. Io mi chiamo Elena Sico, sono il dirigente del servizio autorità di gestione unica FESR e FSE. In pratica svolgo attività di supporto all'autorità di gestione unica di questi due programmi, del PORFESR e del PORFSE. Quali sono gli uffici più importanti che all'interno di una regione, pur non occupandosi in modo specifico solo di fondi strutturali, ne influenzano la qualità dell'attuazione? Gli uffici che influenzano l'attuazione del programma sono diversi. Io direi in primo luogo quelli che si occupano in particolare della realizzazione delle azioni. In Regione Abruzzo i responsabili delle azioni sono i dirigenti competenti per materia, che non svolgono evidentemente solo attività di attuazione dei programmi, ma svolgono molteplici attività. I responsabili di azione sono fondamentali, per quale motivo? In prima di tutto perché sono i soggetti che predispongono i bandi, prima di tutto, e quindi danno attuazione ai procedimenti amministrativi conseguenti. Si interfacciano con i beneficiari delle azioni e dei finanziamenti e quindi è evidente che eventuali ritardi, problematiche, illegittimità che fossero poste in essere avrebbero dirette conseguenze sull'attuazione del programma. Naturalmente i responsabili di azione sono anche coloro che predispongono le attestazioni di spesa. L'autorità di gestione ha poi il compito di metterle insieme, presentare un'attestazione di spesa complessiva all'autorità di certificazione che presenta le domande di pagamento alla Commissione europea. Quindi sicuramente sono coloro che entrano pienamente nell'attuazione del programma e lo condizionano. Insieme ai responsabili delle azioni abbiamo anche i controllori di primo livello, che sono un importante tassello. Perché? Perché i controllori di primo livello controllano la corretta attuazione dei progetti, sia attraverso un controllo documentale, sia attraverso i controlli in loco. Ed è evidente che sia i responsabili di azione, sia i controllori di primo livello, consentono alla Regione di dare piena attuazione al Regolamento 1303 per quanto riguarda il rispetto dei termini dei pagamenti. Infatti i beneficiari devono ricevere i pagamenti entro 90 giorni dal momento in cui presentano le rendicontazioni. I controllori di primo livello sono anche molto importanti perché praticamente sviluppando un bagaglio informativo e di conoscenza nello svolgimento delle loro attività sono in grado di dare un ritorno sul piano del miglioramento ai responsabili di azione e all'autorità di gestione in fase di predisposizione dei bandi, per esempio. Altro servizio cardine fondamentale, diciamo nei cui confronti noi spesso facciamo stalking in un certo senso, è il servizio ragioneria. Il servizio ragioneria deve portare a casa i pagamenti, quindi dare attuazione agli atti di spesa emanati dai responsabili di azione. E poi le autorità del programma, che sono fondamentali, diciamo il rapporto con le autorità, tra autorità di gestione, autorità di certificazione e autorità di audit, il rapporto deve essere il più collaborativo possibile perché anche in costoro entrano, diciamo, in tutto il processo di attuazione del programma. L'autorità di certificazione, come dicevo, presenta le domande di pagamento e deve farlo anche, diciamo, tempestivamente, seguendo le scadenze che ci siamo anche dati internamente. Questo perché? Perché nell'attuazione dei programmi la regione, diciamo, anticipa i pagamenti, quindi ha necessità, come dire, di recuperare la liquidità e questo si realizza attraverso domande di pagamento anche, diciamo, frequenti presentate alla commissione. L'audit, la nostra spada di Damocle, è colui che ci controlla, il controllore di secondo livello. E se c'è qualcosa che non va, diciamo, prende le forbici dal cassetto, le tira fuori e applica le rettifiche finanziarie. Quindi è sicuramente un gioco di squadra. Alla luce dell'esperienza della programmazione 2007-2013, quali sono i punti di forza e aree di criticità emersi e le azioni di miglioramento nel frattempo attivate? Uno dei punti di criticità è sicuramente stato, diciamo, determinato dall'avvicendamento dell'autorità di gestione. Cioè, secondo me, l'autorità di gestione dovrebbe essere la stessa, almeno, diciamo, lo stesso periodo di programmazione. Nel caso della regione Abruzzo non è andata così. Peraltro questo avvicendamento ha determinato, per talune, diciamo, questioni che ovviamente non è questa la sede per illustrare, ha determinato una sospensione dei pagamenti del Profeser 7-13. E la desospensione dei pagamenti si è, peraltro, verificata a ridosso della scadenza del 31 dicembre 2015. Tutti la ricordiamo come deadline per i pagamenti del periodo 7-13. Altra criticità ha riguardato i profili più strettamente organizzativi degli organismi intermedi. Per il Profeser 7-13 abbiamo avuto come organismi intermedi le province. Conosciamo tutti le vicende istituzionali e di riforma che hanno interessato questi enti di governo. Soprattutto queste vicende hanno influito, come dire, negativamente nella fase di conclusione del programma. In un caso, per esempio, l'autorità di gestione si è dovuto sostituire all'organismo intermedio in un'attestazione di spesa. Altra, diciamo, difficoltà che abbiamo incontrato sono state le azioni di coordinamento dell'autorità di gestione, soprattutto nei confronti dei responsabili di attività un po' più indietro con la programmazione delle proprie azioni e con i controllori di primo livello. Soprattutto perché sono emerse, peraltro, anche, diciamo, delle differenze di operato tra i controllori di primo livello degli organismi intermedi rispetto a quelli della regione. Queste, diciamo, sono state le principali criticità. I punti di forza sono stati rappresentati innanzitutto dall'istituzione e del servizio aiuti di Stato che, in un certo senso, in questo senso, Abruzzo ha anticipato tutto quello che poi è stato scritto nelle condizionalità ex ante dell'accordo di partenariato dal punto di vista del fatto di avere una struttura che si occupa di verifica ex ante degli aiuti ed è distinta funzionalmente dalle strutture che attano ai programmi o che comunque concedono, diciamo, aiuti. Altro punto molto importante che già, diciamo, è partito prima dell'avvio della programmazione 14-20 è la nascita del servizio dell'autorità di gestione unica FESRA FSE, quindi un'unica autorità di gestione per due programmi. Nella passata programmazione, in passato, le autorità di gestione erano distinte, adesso si sono unite e questo consente evidentemente di realizzare la massima integrazione tra i fondi e la spesa più efficiente ed efficace e poi l'istituzione all'interno del servizio autorità di gestione unica di un ufficio che garantisce il coordinamento dei controlli, proprio perché erano emerse criticità nel passato e soprattutto coordinamento che riguarda i due fondi, quindi a prescindere dal fatto che il controllo sia svolto presso gli organismi intermedi o presso la regione, proprio un coordinamento che mette, diciamo, in campo tutto, tutte e due fondi, in modo da avere, diciamo, un comportamento il più omogeneo possibile. Per la programmazione 2014-2020, quali ulteriori azioni di miglioramento state perseguendo? Le azioni di miglioramento del 14-20 sono diverse. Innanzitutto abbiamo cambiato tutto il processo che segue l'emanazione di un bando, cioè la validazione dei bandi. I bandi, come dicevo prima, sono predisposti normalmente dai responsabili di azione e la DG li valida, prima che siano emanati per assicurarsi, ovviamente, che siano coerenti con il programma, con i programmi di riferimento. La validazione non viene fatta più nella solitudine delle stanze dell'autorità di gestione, ma viene fatta, diciamo, in esito ad un processo che mette in campo, intorno al tavolo, tutti gli attori. Quindi la bozza di avviso, per esempio, predisposta da responsabili di azione, viene vista subito dal controllore di primo livello, viene vista dal servizio aiuti di Stato, dall'autorità ambientale se si tratta di un intervento del PORFESR, piuttosto che dal servizio che si occupa di informatica perché le candidature sono tutte online e quindi il bando non deve avere disposizioni che possono, come dire, creare problemi da questo punto di vista. Quindi c'è una sorta di rafforzazione rafforzamento della cooperazione interna alla regione per fare in modo che la spesa, diciamo, che poi viene sostenuta sia assolutamente ammessibile per evitare che l'ADA tiri la famosa forbici dal cassetto per le rettifiche finanziarie. Un'altra, diciamo, azione di miglioramento che abbiamo posto in essere riguarda la comunicazione. La novità più importante rispetto al 713 che la comunicazione non è più svolta da imprese esterne alla regione, selezionate in esito a gare di appalto, ma il servizio stampa che fa comunicazione e questo ci consente di lavorare in maniera più sinergica all'interno della regione. È stata istituita un'apposita newsletter, bandi e risorse, gestita in particolare dall'URP, diciamo, dal servizio stampa e dall'URP per dare un'informativa completa di tutti i bandi che vengono emanati e poi abbiamo anche assunto una bella prassi consuetudine all'interno dei comitati di sorveglianza dove il servizio stampa prepara dei video che sono storytelling, cioè c'è posto per te, dove praticamente gli imprenditori raccontano che cosa hanno realizzato con i fondi, quali sono le principali iniziative che hanno appunto assunto e soprattutto magari quali difficoltà hanno incontrato nell'avere le informazioni dalla regione, nel predisporre le candidature e questo ci serve sicuramente come ritorno e feedback di informazione per migliorare la nostra azione. Poi ci siamo dotati del PRA, come tutte le amministrazioni, il piano di rafforzamento amministrativo che ha 44 interventi al suo interno di cui 28 dedicati alla semplificazione, quindi sicuramente più della metà. E poi nell'ultimo comitato di sorveglianza abbiamo presentato uno strumento che ho ideato io, me ne banto però è insomma un lavoro che mi è piaciuto molto portare avanti, che ho denominato cronobilancio. A che cosa serve? Il cronobilancio mette a sistema per ogni programma, quindi abbiamo due cronobilanci, uno per il FESR e uno per la FSE, che mette a sistema i responsabili di asse, di azione, le azioni, gli stanziamenti del bilancio regionale, indicazioni rispetto ai bandi, alla programmazione dei bandi, le previsioni sulle attestazioni di spesa da presentare all'autorità di gestione e gli indicatori e target da conseguire. Questo diventa uno strumento, io lo definisco proprio di stalking, perché ci consente di seguire l'attuazione del programma ed essere sicuri che le azioni poste in essere realizzino gli obiettivi fissati dal programma. I cronobilanci andranno in approvazione da parte dell'Aggiunta a breve, entro il mese di maggio li faremo approvare e quindi faremo azioni di coordinamento e di controllo con periodicità mensile, bimestrale, a seconda, diciamo, degli elementi che vogliamo controllare, verificare. E poi, in ultimo, è l'unificazione dei comitati di sorveglianza. Finora abbiamo avuto due distinti comitati, uno per il FESR e uno per la FSE. Ci siamo resi conto che per rendere, come dire, più sinergici i fondi, anche sinergiche le azioni che poniamo in essere, siamo arrivati a costituire un solo comitato di sorveglianza e sarà a breve approvato dalla Giunta, la delibera è stata firmata e quindi il comitato di sorveglianza che convocheremo a giugno per l'approvazione delle relazioni annuali di attuazione sarà appunto unico per i due fondi.